Oggi è il 21 marzo e come ogni anno, anche quest'anno celebriamo la giornata della memoria dell'impegno e ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Vi siete mai chiesti perché sia stato scelto proprio il 21 marzo e come nasca questa iniziativa? Il 21 marzo è il primo giorno di primavera e rappresenta il risveglio della natura. Allo stesso modo quindi, in questa giornata si deve rinnovare la primavera della verità e della giustizia sociale. E solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza. Questa iniziativa nasce da un'idea di Don Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera. Don Ciotti, durante il primo anniversario della strage di Capaci, era in Sicilia e durante una commemorazione di quella strage fu avvicinato da una donna che in lacrime gli chiese il motivo per cui suo figlio non venisse ricordato con il suo nome, ma come uno degli uomini della scorta di Falcone. Quella donna era Carmela Montinaro, mamma di Antonio Montinaro, membro della scorta di Falcone, insieme a Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Don Ciotti capì che c'era e c'è tuttora il bisogno di ricordare ogni singola vittima innocente con il suo nome. Perché non si neghi uno dei diritti fondamentali di tutti noi, che è proprio il diritto al nome. Ecco come è nata l'idea del 21 marzo. È nata dal grido di dolore di una mamma per l'identità negata a suo figlio. E a partire dal 1996, ogni anno, in una città diversa, si ricordano tutte le ormai più di mille vittime innocenti delle mafie, tutti indistintamente, leggendo i loro nomi uno dopo l'altro. Perché non esistono vittime di serie A e vittime di serie B. Esistono uomini e donne, giovani e anziani, adulti e bambini che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata. Erano politici, magistrati, poliziotti, giornalisti, docenti, farmacisti, medici, braccianti, studenti, neonati. Erano mariti, mogli, padri, madri, fratelli, sorelle, figli, nipoti, cugini, zii e nonni. Erano e non sono più, perché qualcuno ha brutalmente interrotto le loro vite, senza pietà. E non è vero che la mafia non uccide donne e bambini, uccide anche loro. E come se li uccide? Noi oggi siamo qui per raccontarvi alcune delle storie che riguardano proprio delle giovani vittime. Vi chiediamo di ascoltarle e di custodirle, perché in quelle vite spezzate, in quell'innocenza violata, in quella memoria ogni anno solennemente rinnovata, che fondano le radici di un impegno tesa alla costruzione di una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni tipo di malaffare. Buon ascolto. Sono Emanuela Sansone, ho 17 anni e vivo a Palermo. Ho due fratelli, Salvatore e Giuseppe, con i quali adoro giocare nel cortile di Casa Nostra. Casa Nostra non è molto grande, ma è accogliente. Mia madre ama cucinare. Quando non lavora in bottega, sforna sempre qualcosa di buono. Io divido la camera con i miei fratelli, cerco sempre di tenerla in ordine e prendermi cura di loro, per non dare ulteriori preoccupazioni ai miei genitori. La mia famiglia ha una bottega, uno dei clienti più affezionati è il comandante San Giorgi e per questo il negozio non è ben visto nel quartiere. Da quando ho finito di studiare do una mano ai miei genitori, mi piace aiutarli, sono molto legata a loro. Quelche giorno fa però sono entrati in negozio due ragazzi per acquistare delle merci per la concilia del loro padre, ma hanno provato a pagare con soldi falsi. Mia madre allora glielo ha impedito. Mio padre è andato subito dal padre di questi ragazzi per risolvere il malinteso ed evitare gli sapori tra la mia famiglia e il resto del quartiere. Oggi è il 27 dicembre, questa mattina due uomini hanno fatto il giro nel nostro negozio, hanno controllato qualcosa e se ne sono andati. Ora è sera, non penso più allo strano episodio di questa mattina che ha tanto turbato mia mamma. All'improvviso sento esplodere dei colpi, non faccio neppure in tempo a rendermene conto che vedo mia mamma corollare al suolo dopo essere stata ferita e immediatamente dopo un proiettile colpisce anche me. Sono meno fortunata di mia mamma che sopravvive all'agguato, io vengo colpita alla testa e per me non c'è scampo. Sono la prima donna vittima innocente di mafia, sì perché sono stati dei mafiosi di eliminarmi, mafiosi che hanno colpito la mia famiglia perché hanno temuto che mia mamma volesse denunciare l'episodio dei soldi falsi. Vi diranno che i mafiosi hanno un codice d'onore, che non si accaniscono contro donne e bambini, non credeteci, io sono la prova che questo accade sin dal 1896. Sono Emanuela Sansone, ho 17 anni e li avrò per sempre. Sono Giuseppe Letizia, ho 12 anni e vivo con la mia famiglia a Corleone in Sicilia. È il 1948, la guerra è finita da qualche anno, l'Italia sta cambiando, è una repubblica ora, ha una nuovissima costituzione. L'Italia cambia, sì, ma il mio paese mi sembra sempre uguale, la mia famiglia era povera prima della guerra e lo è ancora oggi. Io cerco di aiutare i miei come posso, quando non sono a scuola, infatti mi occupo di badare al greggio, lo conduco al pascolo. Chissà se adesso che è tornato quel giovanotto dal nord qualcosa cambierà. Si chiama Placido Rizzotto e fa il sindacalista, parla di giustizia e dice che ognuno deve avere ciò che gli serve e gli spetta. Cibo, istruzione per i figli, assistenza per i malati, mi piacciono le sue idee. A pensare a Placido ho fatto tardi, caspita ormai è buio, devo riportare le pecore all'ovile, ma sento delle voci. Chi è che sta arrivando? Sono tre uomini, ne stanno trascinando un quarto. È legato ed inveisce contro i suoi aguzzini. Ma io questa voce la conosco, è la voce di Placido, sì, è proprio lui. Cosa gli stanno facendo? Lo vogliono ammazzare. Torno a casa, sconvolto, e per lo spavento mi viene la febbre, altissima. Pronuncio parole incomprensibili. I miei mi portano all'ospedale e mi affidano alle cure del dottor Michele Navarra. Il dottore mi fa un'iniezione e sembra che io finalmente mi sia calmato. Mi addormento, esausto e non mi sveglierò più. Quel medico è in realtà il boss di Corleone, implicato nell'omicidio di Placido Rizzotto. Quel medico mi ha messo a tacere per sempre, non mi ha iniettato medicine, mi ha avvelenato. Sono Giuseppe Letizia, ho 12 anni e li avrò per sempre. Sono Graziella Campagna, ho 17 anni e vivo a Saponara Superiore, un paesino in provincia di Messina, con i miei genitori e i miei sette fratelli. Non vado più a scuola, la mia famiglia aveva bisogno di soldi e così ho cominciato a lavorare. Lavoro come aiuto alla Vandaia a Villa Franca Tirrena, un piccolo paesino confinante con Saponara. Il lavoro non è un granché, non ho neppure un contratto. Eh sì, purtroppo lavoro in nero, dalle nostre parti è molto frequente. I soldi però a casa servono, quindi non posso permettermi di lasciare il mio impiego, me lo devo tenere stretto. Quelle 150.000 lire al mese sono fondamentali per sfamare la nostra numerosa famiglia. Qualche giorno fa, un certo ingegnere cannata mi ha portato una camicia da lavare. Dentro la tasca della camicia ho trovato un documento d'identità. Il documento è di Gerlando Alberti Junior, il nipote del boss latitante Gerlando Alberti. Dunque l'ingegnere non è chi dice di essere. Questa informazione è pericolosa, ma non ho fatto apposta a guardare la carta d'identità. La signora Franca mi dice di controllare sempre che in tutte le tasche non vi sia nulla. Non è colpa mia. Oggi è il 12 dicembre 1985. Sono alla fermata dell'autobus. È stata una lunga giornata. Ho solo voglia di arrivare presto a casa. Ma oggi non faccio ritorno a casa e non lo farò mai più. Mi hanno rapita, interrogata, ferita, uccisa a colpi di lupara e abbandonata a forte campone. La mia famiglia è preoccupata perché non mi vede arrivare. Allora pensano a una fuitina, ma in fondo sanno che non è possibile. Deve essermi successo qualcosa. Non dovranno aspettare molto per conoscere la verità. Tra due giorni mio fratello ritroverà il mio corpo martoriato. Un corpo giovane, bello, nel pieno delle sue forze, ma ormai senza vita. Sono Graziella Campagna. Ho 17 anni e li avrò per sempre. Sono Mariangelo Anzalone. Ho 9 anni. Sono nata nel 1989 a Oppido Mamertina, un piccolo centro ai piedi dell'Aspromonte, in Calabria. Che bella la mia terra. Che bello il sole che brilla sulle montagne. Che bello il mare dalle acque cristalline. Che belli frutti della campagna. Che dire di me? Amo giocare con mio fratello. Frequento la terza elementare e mi piace la scuola. Anche perché ricevo spesso i complimenti dalle mie maestre. In questi giorni in classe sto preparando una poesia per la festa della mamma. Ma non dito la mia mamma. Mi raccomando. Deve essere una sorpresa. Oggi è l'otto maggio 1998 ed è una grande giornata perché sono venuti a prendermi a scuola mia mamma e i miei nonni. stiamo tornando a casa. Pochi chilometri e finalmente io e mio fratello potremmo riprendere il gioco interrotto ieri. Ma cosa succede? Sento dei colpi di pistola. Vengono dalla macelleria. Deve essere un regolamento di conti tra due famiglie mafiose. Ma perché sparano anche contro la nostra macchina? Ci hanno scambiato per mafiosi. Hanno confuso la nostra auto per quella di qualcun altro. Io e mio nonno Giuseppe Bicchieri muriamo sul colpo. Mia mamma, mio fratello e mia nonna rimangono gravemente feriti. Sono Mariangelo Anzalone. Ho nove anni e li avrò per sempre. Sono Nadia Nincioni. Ho nove anni e vivo a Firenze. Sono una bambina vivace. A scuola ho tantissimi amici con cui giocare. Ma io ho sempre sognato una sorellina con cui condividere la mia passione per il rosa e per le principesse. Il mio sogno si è avverato il mese scorso, il 6 aprile, quando è nata la mia sorellina Caterina. Caterina, tu sì che hai un nome da principessa, il mio non tanto, ma mi piace lo stesso. Sai Caterina, noi viviamo in una città bellissima e abitiamo in un luogo magico. Siamo vicini al famosissimo Museo degli Uffizi e abbiamo casa dentro l'Accademia dei Giorgofili, dove mamma lavora come custode. Amo questo posto, amo vedere ogni giorno i ragazzi curiosi di scoprire cose nuove e spero in futuro di essere come loro. Ma adesso basta chiacchiere, piccola Caterina, è tardi ormai, è ora di fare la nanna. Mi addormento, ma all'improvviso mi risveglia un forte boato. Poi non sento più nulla. È la notte del 27 maggio 1993. È appena scoppiata una bomba che ha fatto crollare la nostra casa. È l'ennesima strage di mafia. Caterina, non avere paura. Ci sono io con te e con noi ci sono mamma Angela e papà Fabrizio. Non siamo sole e non lo saremo mai. Sono Nadia Nincioni, ho nove anni e li avrò per sempre. Grazie. 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 Grazie a tutti.